Ciao amico, quali sono le novità dal mondo? Oh scusa, stavi parlando al cellulare? Quello è l'ultimo modello, vero? E beh, c'è la partita! Ma che fai? Ma che fai? Hai cambiato canale! A meno che tu non voglia fare lo spiritoso, spegnila subito! Stavi dicendo? Meno male che non sei qui a vedere il casotto che ho combinato. Oh, ma io ci sono! Cosa? Hai cacciato i tuoi fedelissimi clienti per un mucchio di snobbe senza anima. Beh, almeno le mance sono decenti. Lo sono boh, dà un'occhiata. Oh! Perché mi prendi in giro? Siamo amici! Ah, giusto, scusa. Non berrò da boh, ci basta il garascio, non berrò da boh. E' un gran babeo, è un travestito. Questo richiede un'altra birra? Baristo! Credevo che questo bar fosse tuo. E' una gestione familiare, giusto figlioli? Possiamo andare a letto. Appena avrai finito di tagliare quei limoni. Ma non li stai neanche usando. Ha tanto sonnuccio la lisina che non sa quello che dice la bambina. Ma chi prendo in giro? Io non sono boss e macio. Come ho potuto lasciare i miei amici senza un posto dove abbeverarsi? Ma che succede? Come hai convinto il Rem a suonare qui? Ho detto che era per beneficenza. Ci credono di salvare la foresta pluviale. Moretti! Orra! Orra, baby! Baby, baby, baby! Michael, sei sicuro che questi siano miliardari? Ma dai, un pezzente avrebbe un bar nel proprio garage. Ehi ragazzi, copritemi. Non riesco a farla con Lenny che mi guarda. Ti scappa proprio, eh? Lasciamo perdere. Ma che diavolo tu non puoi aprire un tuo bar? A me pare di averlo già fatto. È illegale, non si può gestire un bar in una casa privata. Bar? Io non vedo bar. Questo è il club della caccia. Dove è permesso dalla legge servire bevande e lavande di natura rinfrescante, ecco. Club della caccia, hai mentito. Michael, no! Questo non è nello stile dei Rem. Hai ragione. Ricicliamo questi cocci e andiamocene da qui. Ah, ecco qui. Dice anche, un club della caccia con licenza deve impegnarsi attivamente nello sport della caccia, chiaro? Cosa che farò domattina, mio bel sapientone? Caccia? Papà, no! Limone. Non è giusto, perché un animale dovrebbe morire solo perché tu e Bo litigate? È la legge, ho le mani legate, ok? Salsa di mirtillo, ripieno, patate. Forza, tacchino, unisciti ai tuoi amici. E credi davvero che un tacchino si piacerebbe nel piatto? Io lo farei. Oh! Oh!